Ciao a tutti, oggi è praticamente l'ultima volta che mi sentite da tanto Io sto aprendo un altro canale, spero che venite a visitarlo Stavo per aprire anche un canale telegram, questo canale si chiamerà Sophie Channel Spero che voi lo venite a seguire, siete in orto quindi almeno voi Poi vi faccio sapere, devo aprire anche un canale telegram, non so se già ve l'ho detto Non mi scordi altre cose, ciao, ci vediamo sull'altro canale Ah, commentate, me l'ho dimenticato